Ciao a tutti! Allora, in pratica, nuovo semestre e quindi le mense sono aperte. Adesso mi trovo qui in una delle mense per studenti della mia università qui a Harbin, la Helongyang International University, e in pratica vi ho detto una delle mense per studenti, perché come vi ho detto anche un'altra volta, qui c'è la mensa per i professori e poi ci sono alcune mense per gli studenti. Io ci sono in una di queste. Mi piace venire qui in mezzo agli studenti perché così mi sento un po' più giovane. No, scherzo, in realtà è perché c'è più scelta. Diciamo che costa un pizzichino di più rispetto alla mensa per gli insegnanti, però c'è più scelta. E a proposito di scelta, io oggi che cosa ho preso? Allora, ve lo faccio subito vedere. Allora, in pratica qui ho preso una base di riso bianco, poi qui ci sono appunto le Tudos, che in pratica sarebbero filetti di patate leggermente piccanti. Vedete, c'è anche il peperoncino. Sono un po' pochine perché erano quasi finite, infatti sono venute un po' tardi. E poi qui abbiamo del pollo che appunto, vedete, è ben colorato, tendente al rosso, perché appunto è speziato. Poi dopo vi dico che cosa sa. E vabbè, niente, dai, quasi quasi. Adesso vi metto qua sopra e cominciamo a mangiare. Ecco qua. Quindi, bando le ciance, io comincio subito a mangiare. E parto dal riso bianco. Eccolo qua. Ci sta. Né troppo caldo, né troppo freddo, né troppo appiccicoso, consistenza buona. A me piace partire dal riso bianco perché quando ho veramente fame non mi va di passare subito alla cosa più buona. Voglio partire appunto dai preliminari. Ci sta, dai. Adesso passiamo alle Tudos. Ecco, ne prendo un bel po', sperando di non farle cadere sul tavolo, come mia consuetudine. Ecco, dai, assaggiamo. Buone. Non sono troppo piccanti. Cioè, hanno quella puntina di gusto che ci sta. Poi, comunque, queste sono state fatte veramente bene. Appunto, queste qui vengono saltate in padella. C'è anche dell'aglio. C'è anche un pochettino di cipolla, oltre che il peperoncino. E in pratica sono state saltate bene perché non sono né troppo morbide, né troppo due. E, insomma, hanno una buona consistenza. Ci sta, ci sta. Ecco, e per cui c'è il pollo. Vedete, no? Ne prendo un bel po'. Bello succulento. Questo colore qua mi sa che è dovuto al fatto che ci aggiungono appunto le varie spezie. Non so se avete presente appunto le varie polveri, tipo paprika, curcuma, carriage. Non lo so. Vabbè, adesso lo assaggio. Molto gustoso. Tra l'altro è tutto quanto senza ossa. E tra parentesi, quanto ho pagato? Quanto ho pagato per tutte queste cose? Ve le faccio rivedere. Allora, riso più, appunto, tu dosi, patate saltate a filetti, e pollo. Insomma, un buon pranzo, ha soltanto 7 yuan. Praticamente meno di un euro. Ed è un prezzo relativamente conveniente. Perché io comunque, se dovessi mangiare fuori, che ne so, tipo a un fast food cinese, molto probabilmente pagherei tipo 2 euro. Ecco, almeno 2 euro mi partirebbero. Invece qui, meno di un euro. Per tutta questa roba. Ed è buona. Io qui non lascio niente. Proprio mangio fino all'ultimo chicco di riso. Adesso magari qualcuno potrebbe dire Ah sì, Fabio, ma non è che se mangi tutto è maleducazione. Perché ho sentito che in Cina non devi mangiare tutto. Devi sempre lasciare qualcosa. Mmm, falso. Allora, vi spiego. Se voi andate a casa di qualcuno, o magari andate a cena fuori, perché qualcuno vi offre da mangiare, per esempio vi offre un pranzo, vi offre una cena, ok, allora non dovete mangiare tutto. Dovete far finta di essere sazi. Dovete far finta di non poterne più, per dimostrare la generosità di chi vi ha offerto da mangiare. Però se andate a mangiare fuori da soli, potete mangiare tutto, anzi dovete mangiare tutto. Addirittura adesso è uscita una legge che prevede sanzioni per chi spreca il cibo. Infatti si invita la gente a mangiare tutto. Ci sono anche un sacco di pubblicità a progresso apprese ovunque, anche qui in Mensa, che invitano a mangiare proprio tutto, fino all'ultimo chicco di riso. No vabbè, adesso qui non ne vedo, però comunque ce ne sono. E c'è una pubblicità a progresso che mi piace tantissimo, che in pratica dice che ogni chicco di riso equivale a una goccia di sudore del contadino, quindi devi assolutamente finire tutto il piatto. Difatti, quando io restituisco il vassoio completamente vuoto, completamente prosciugato, appunto si restituisce di là, dietro di me. Adesso non so se è riuscito a vederlo. Io non mi giro, però insomma. Ecco, in pratica in quel posto, quando io restituisco il vassoio completamente vuoto, mi sorridono, ok? Proprio perché non solo è una questione di apprezzamento verso il cibo, ma anche proprio di rispetto. Quindi mi raccomando, vassoio vuoto. Tra l'altro questo è un video che fa tanto ritornare in mente vecchi ricordi, un video a marco, non so come si dica. Insomma, sicuramente chi mi segue da parecchi anni avrà subito avuto in mente quei vecchi video in cui andavo nella mia università, nello Shandong, a farvi video immensa dove vi facevo vedere tutti quanti i cibi. Solo che adesso non sono più un semplice studentello, ma sto dall'altra parte della classe, appunto, perché sono un insegnante. E poi, youtubicamente parlando, ho un'attrezzatura audiovisiva di qualità nettamente superiore. non so se si nota. E tra l'altro, non so se l'avete notato, ma ho fatto apposta scegliere un momento in cui la mensa non fosse eccessivamente piena, perché ormai, dai, lo sapete, mi conoscete bene, i motivi li sapete benissimo. Poi dopo, appena riguardo il video, vedo se qualcuno si è girato a guardarmi. Tra parentesi, adesso non so se avete notato, ma no, mi sembra che non ci sia nessuno, ma in pratica in questo periodo c'è un sacco di gente qui, all'università, che gira con la divisa militare. Perché in pratica quelli del primo anno, appunto le matricole, per le prime due settimane fanno addestramento militare. Quindi li vedi tutti quanti in divisa, anche qui in mensa. Io sono venuto qui stamattina, alle sei e mezza in mensa, sono entrato e c'era una marea, tutti quanti militari erano. Io ero praticamente l'unico vestito normale, cioè dico, già sono diverso, se poi appunto sono, cioè, antisgamo proprio, no? Quindi insomma, una bella scena. E vabbè. Pollo. Niente, dai. Mi è fatto piacere passare questo bel pranzo di sabato con voi. Sì, perché comunque adesso è sabato, la mensa aperta. Vi carico questo video oggi, ve lo giuro, non è che l'abbia girato chissà quanto. Adesso qui ho sul maglione perché qui a Harbin è già cominciato l'autunno. Non sto scherzando. E vabbè, niente. Che dire, adesso devo prosciugare il piatto. Ad ogni modo, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace. Siamo proprio tornati ai bei vecchi tempi. Comunque, se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!